Ottima opportunità ad un prezzo veramente competitivo ragazzi, con 110.000 euro acquisti sia l'abitazione che il terreno edificabile adiacente all'appartamento. Sono situati in una zona tranquilla e residenziale, libre a roggito nella zona di Brebbia. L'appartamento ha una superficie totale di circa 80 metri quadri ed è composto da tre locali. È da ristrutturare, ma questo ti dà la possibilità di personalizzarlo completamente secondo i tuoi gusti e le tue esigenze. L'abitazione si trova in una casa bifamiliare e posta al primo ed ultimo piano con entrate indipendenti, con ingresso, veranda, cucina abitabile, soggiorno, due ampie camere e il bagno con la sua finestra. Inoltre c'è un balcone che ti permetterà di godere del panorama circostante e di rilassarti all'aria aperta. Non solo, ma c'è anche un ripostiglio posto al piano terra di circa 40 metri quadri, incluso nel prezzo, dove potrai conservare tutte le tue cose e avere uno spazio extra per eventuali hobby o attività. O, se preferisci, c'è la possibilità di fare cambio di destinazione in posto auto coperto oppure box. Sappiamo quanto sia importante avere anche un sistema di riscaldamento efficiente, quindi sono felice di informarti che l'appartamento è dotato di riscaldamento autonomo, che ti permetterà di regolare la temperatura a tuo piacimento. Oltretutto è compreso anche nel prezzo un terreno edificabile, che potrebbe essere un'ottima opportunità per investire o costruire una tua futura casa. Insomma, queste due soluzioni hanno davvero molte potenzialità e ti offrono anche la possibilità di creare la tua casa dei sogni. Quindi non devi perdere questa grande occasione di vederli di persona e contattarmi per ulteriori informazioni. Cosa aspetti? Chiama e fissa la tua grande opportunità di visionare senza farti scappare queste due soluzioni. Che dire, chi ha tempo non perda tempo.